Che la clinica Neuromed di Pozzilli fosse uno dei fiori all'occhiello della sanità del centro-sud Italia era notizia nota, ma oggi un altro riconoscimento arriva direttamente dalla redazione del portale di Repubblica in collaborazione con l'Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna, che ha pubblicato la guida multimediale agli ospedali a misura di donna. L'IRCS Molisano si conferma in maniera assoluta un'eccellenza nazionale per la neurologia, soprattutto dopo gli importanti risultati conseguiti nel servizio di riabilitazione cognitiva per pazienti con disturbi della memoria. A differenza del vicino Abruzzo, in cui si distinguono gli ospedali di L'Aquila e Pescara, nessuna menzione è arrivata per gli ospedali pubblici dell'ASREM, nessuno di loro è finito sul bollettino dedicato al monitoraggio della salute della donna nella sanità italiana. Ancora una volta si dimostra invece come la sincronia tra ricerca e cura possa innalzare lo standard sanitario di un intero territorio. Un inserimento, quello dell'Istituto Neuromed, in questa speciale classifica da parte dell'Osservatorio Nazionale della Salute della Donna, che è stato ovviamente accolto con soddisfazione da chi ogni giorno lavora arduamente per ottenere risultati così importanti.